Una vittoria di misura che a meno di clamorose sorprese dovrebbe consentire una salvezza più che meritata al paterno. Però per conoscere il proprio destino i Nerazzurri dovranno aspettare anche la conclusione del campionato di Serie D, quello che vede ancora le abruzzesi in lotta per non retrocedere. Tre punti quindi importanti per la truppa di Tonino Torti, che sembra voler fare un sol boccone dell'avversario di turno, ma dopo un avvio folgorante la stanchezza ha preso man mano il sopravvento e lo spettacolo è scaduto di conseguenza. Formazione tipo per i padroni di casa, che al primo tentativo passano in vantaggio. È il secondo minuto, quando Schiphol crossa teso dalla sinistra. Mastroianni non ci arriva, ma di Virgilio, che è dietro di lui, impatta alla perfezione e per Ferrara non c'è nulla da fare. Miglianico, che accusa vistosamente il colpo e poco più avanti un cross lungo di Conè preoccupa non poco l'estremo ospite. Sulle ali dell'entusiasmo, al decimo il paterno raddoppia. Di Stefano si produce nel solito anticipo, che è la caratteristica della casa. Poi la palla finisce sui piedi di Albertazzi, che taglia il campo dalla parte opposta ancora per lo sgusciante di Virgilio, il cui tocco ad incrociare non perdona. 2-0 in solo 10 minuti. Miglianico, che fatica a raccapezzarsi. Ma al ventesimo Conè commette una ingenuità che costa cara, perdendo palla in area, con Di Muzio, che appoggia lateralmente verso Orta, che di precisione batte Ranalletta e riapre i giochi. Poi sembra che le due squadre abbiano quasi paura ad attaccare e la prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti. Nella ripresa il primo tentativo è di Mastroianni, che dopo 30 secondi ci prova dal limite, ma Ferrara non si lascia sorprendere. Passiamo al quinto per vedere questo tiro cross di Grossi, che per poco non sorprende Ranalletta. tredicesimo di Stefano per Mastroianni, che prova la girata in acrobazia, ma mette a lato. Diciottesimo, Sassarini riceve, avanza e tira. Il diagonale è bello da vedere, ma non produce effetti. E passiamo al ventiduesimo, errore di Simone Di Moia, che favorisce Di Virgilio. Volata dell'attaccante, che però ha tu per tu con il portiere, angola troppo il tiro e spedisce fuori tra la disperazione dei suoi compagni e tifosi. L'ultimo sussulto si registra al trentatresimo, è Cordischi che va al tiro a botta sicura, ma un difensore respinge, replica Mastroianni, ma con gli stessi identici risultati del compagno. Al termine mancano ancora diversi minuti, ma né Paterno né Miglianico hanno una necessaria lucidità per cambiare il risultato.